Grazie Presidente, cari colleghi, cari colleghi, gentile commissaria. Oggi facciamo un passo avanti enorme per la parità di genere, per i diritti delle donne. Questo è un momento significativo, importante naturalmente per noi, ma è importante soprattutto, io credo, per le future generazioni. E lo facciamo questo passo in avanti così importante, fatemelo dire, grazie alla tenacia di questo Parlamento, grazie alla tenacia della Commissaria, grazie alle colleghe e colleghi che hanno lavorato incessantemente a questa direttiva, guardo Evelyn, perché per dieci anni alcuni governi ci hanno assolutamente tenuti in ostaggio. Sono stati miopi di fronte al progresso, di fronte, diciamo la verità, alla giustizia. Hanno bloccato norme di buonsenso che avevano e che hanno l'ambizione semplicemente di correggere una distorsione della realtà che è figlia di stereotipi e di una inaccettabile cultura patriarcale. E allora facciamo un passo in avanti parziale, signora Presidente, chiudo, in un settore però cruciale per il futuro di tutte le donne. Grazie davvero.